La Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto ha disposto il sequestro preventivo per otto mezzi con dieci aziende accusate di effettuare trasporti abusivi di merce, elevate sanzioni per oltre 270.000 euro. Nuovo sopralluogo questa mattina in via Romiti dove si cerca una soluzione per sistemare la strada frannata nel 2011. Al sopralluogo di oggi ha partecipato anche il dirigente della protezione civile provinciale Giovanni Spampinato. A Paternò continua il botte risposta tra maggioranza e le due rappresentanze dell'opposizione. A parlare con una nota stampa sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Gran caldo oggi da nord a sud con le temperature sopra i 40 gradi. A Paternò raggiunti 42 gradi. A Catania la protezione civile ha fatto scattare il bollino rosso per il rischio alla salute. Grande festa oggi ad Adrano per San Nicolò Politi. Le reliquie del Santo sono state ricongiunte nel novecentesimo anniversario della morte. Questa mattina il sindaco Pippo Ferrante ha deposto un mazzo di fiori nella villa comunale di Adrano in ricordo di Rosario Ranno e il giovane ucciso il 3 agosto di cinque anni fa. Buonasera da Ciacca News. Apriamo il telegiornale questa sera con l'operazione della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto che ha disposto il sequestro preventivo per otto mezzi con 10 aziende accusate di effettuare trasporti abusivi di merce. Effettuate sanzioni per 270.000 euro. Sentiamo il servizio. 10 provvedimenti di fermo amministrativo per 10 mezzi riconducibili e ad otto aziende impegnate abusivamente nel trasporto di merci oltre a sanzioni per una cifra superiore ai 270.000 euro. È il risultato di un'operazione condotta dalla tenenza della Guardia di Finanza di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. L'attività è nata da una serie di controlli messi in atto dagli uomini delle fiamme gialle alla luce della normativa che disciplina il settore dei trasporti per il quale è prevista l'iscrizione in un apposito albo. Dagli accertamenti svolti dai finanzieri emersi come numerosi erano i casi irregolari. In particolare sono state individuate otto imprese che esercitavano abusivamente l'attività di trasporto di merci su strada a cui sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 150.000 euro. Inoltre, come previsto dalla specifica normativa, sono state applicate ulteriori sanzioni amministrative per oltre 120.000 euro ad altre otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale che avevano fatto ricorso agli autotrasportatori abusivi. A conclusione delle indagini è stata inoltre applicata la sanzione accessoria del fermo amministrativo per un periodo di tre mesi a dieci mezzi di trasporto. Si tratta di furgoni, motrici, autocarri e rimorchi per una capacità di trasporto complessiva superiore alle 30 tonnellate. Emblematico, come evidenziano le forze dell'ordine, il caso di una società di autotrasporti di terme vigliatore in provincia di Messina, la quale, nonostante fosse già stata sanzionata per il trasporto abusivo della merce, aveva continuato a utilizzare l'automezzo sottoposto al fermo amministrativo per la medesima attività abusiva. Infatti, nel corso del controllo, i finanzieri hanno rilevato una significativa differenza tra i chilometri riportati nella conta chilometri e quelli appositamente documentati e trascritti in fase di esecuzione del fermo e hanno ricostruito numerosi ulteriori trasporti effettuati su tutto il territorio nazionale. Il titolare dell'impresa dovrà rispondere anche del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro per il quale è prevista la sanzione dell'arresto fino a tre anni. I carabinieri della stazione di Paternò hanno arrestato Giuseppe Ballato, 37enne paternese su ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica del Tribunale di Catania. L'uomo è stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione perché ritenuto colpevole di incendio, reato commesso a Santa Maria di Ligodia il 23 giugno 2006. L'arrestato, espletato le formalità di rito, è stato ristretto nel carcere di Piazza Lanza come disposto dall'autorità giudiziaria. Torniamo alla cronaca e a Paternò. Nuovo sopralluogo questa mattina in via Romiti dove si cerca una soluzione per sistemare la strada frenata nel 2011. Al sopralluogo di oggi oltre al sindaco Ninonaso ha partecipato anche il dirigente della protezione civile provinciale Giovanni Spampinato. Nuovo sopralluogo questa mattina in via Romiti. Il sindaco Nino Naso si è recato nuovamente sull'arteria di collegamento tra Trappetazzo e Scalilli per fare il punto sull'intervento di ripristino della strada. Un sopralluogo a cui questa volta ha preso parte anche l'ingegnere Giovanni Spampinato del Dipartimento di Protezione Civile. L'amministrazione comunale intende recuperare il tratto di via Romiti franato sei anni fa attraverso un finanziamento della protezione civile. Un intervento quanto mai necessario per consentire ai residenti una seconda via di collegamento con la città e soprattutto il passaggio dei mezzi di soccorso. Il ripristino di via Romiti, ha affermato l'ingegnere Spampinato, è importante perché permetterebbe ai mezzi di soccorso di raggiungere la zona. Al momento ciò non è possibile perché la frana ha ridotto considerevolmente la larghezza della strada e di fatto viene impedito il passaggio dei mezzi più grandi. C'è poi un problema che riguarda l'ordinario, continua il dirigente di protezione civile, in quanto i residenti della zona possono contare soltanto su una seconda via di accesso, peraltro sconnessa e senza asfalto. Vedremo di trovare una soluzione alla luce dei documenti che produrrà il comune di Paternò. Per il sindaco, quello di oggi rappresenta il terzo sopralluogo negli ultimi tre mesi. Questa è una zona che è stata dimenticata, ha affermato Nino Naso, e che invece necessita di tutta l'attenzione possibile. Ci sono tante famiglie che vivono qui e che devono fare i conti con due strade, una peggio dell'altra. Ho sollevato questo problema, continua Naso, a Palermo, dove ho trovato la solidarietà del dirigente generale della protezione civile Calogero Foti, che ha compreso la gravità della situazione. Ci sono anche l'ex deputato regionale Mimmo Rotella, marito di Rosaria Gioffrida, una delle tre donne arrestate dalla polizia postale. Il sacerdote Orazio Caputo è l'ex presidente della congregazione laica di ispirazione religiosa, associazione cattolica, cultura ed ambiente di Aci Bonaccorsi e Salvatore Torrisi. Tra gli indagati dell'inchiesta, 12 apostoli della procura di Catania su abusi sessuali su minorenni. Il reato è ipotizzato per i tre e di favoreggiamento personale. I magistrati avevano chiesto per loro gli arresti domiciliari, ma il GIP li ha rigettati non ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza. Da intercettazioni della polizia postale di Catania, agli atti dell'inchiesta emergerebbe che il sacerdote avrebbe appreso nel segreto della confessione delle indagini avviate su una denuncia per abusi sessuali e avrebbe avvisato dell'attività in corso l'ex presidente dell'associazione Torrisi e l'ex deputato Rotella. Un'estate politicamente rovente a Paternò continua e la botta è risposta tra maggioranza e le due rappresentanze dell'opposizione a parlare con una nota stampa sono i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. L'estate paternese è rovente non solo per le alte temperature di questi inizio d'agosto a far alzare il termometro e anche la politica con i consiglieri comunali appena insediatisi sul piede di guerra. Dal giorno dell'insediamento, cui è seguita l'elezione del presidente dell'assise civica e del primo vice, sono solo polemiche. Tre visioni, da una parte la maggioranza, dall'altra i 5 Stelle, dall'altra ancora il gruppo che fa capo ad Antonio Di Stefano. L'aver teso la mano da parte del sindaco Nino Naso per un consiglio che potesse partire unito non è servito. Le prove di dialogo hanno funzionato in parte con una condivisione del percorso della maggioranza con il Movimento 5 Stelle, per il gruppo Di Stefano invece rottura netta. In un botta risposta, che resta arroventato, il Movimento 5 Stelle spiega la sua posizione in una nota stampa. Ci dispiace notare che una parte della minoranza abbia preferito strumentalizzare un percorso di dialogo e condivisione al quale essa stessa ha scelto di non prendere parte, affermano i portavoce del Movimento 5 Stelle. Inoltre, le bugie hanno le gambe corte. Infatti, la realtà documentabile online attraverso i nostri canali è quella che il gruppo consigliare del Movimento, dopo aver ricevuto la convocazione ufficiale dell'insediamento del Consiglio Comunale, ha diramato con una nota scritta e un video dove chiedeva di conoscere prima possibile coloro i quali volevano ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale. L'appello è stato accolto dalla maggioranza, continuano i pentastellati. Il nostro è stato un voto libero, senza chiedere né pretendere nulla in cambio e saremo i primi a ricrederci qualora tale fiducia dovesse essere calpestata. Adesso un'altra tappa importante sarà quella della Costituzione delle otto commissioni consigliari, concludono i 5 Stelle, e vogliamo nuovamente invitare tutte le forze politiche ad un confronto e capire in che modo si vuole impostare il lavoro del Consiglio Comunale per il bene della comunità paternese. La presidenza delle otto commissioni potrà essere l'occasione per trovare un dialogo? Vedremo. Agli esponenti del Consiglio Comunale facciamo comunque un appello e quantomeno riduttivo per una politica con la P maiuscola. Assistere a beghe per i mancati accordi o le prese di posizione sulle poltrone da occupare. Vorremmo si guardasse all'interesse collettivo e non a quello di bottega. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e la nostra informazione riprende subito dopo. Abbatti la tua bolletta! Con un sistema fotovoltaico sul tetto della tua casa puoi catturare l'energia del sole e utilizzarla per la tua abitazione. Affidati a personale esperto, scegli EnerGreen Power. In questo periodo da EnerGreen Power grandi promozioni. Impianto fotovoltaico 3 kilowatt a chiave in mano compreso solare termico con boiler 300 litri con formula ESCO totale 4.900 euro più IVA al 10%. Per azienda impianto chiave in mano da 20 kilowatt 20.000 euro più IVA al 10%. Per info e sopralluoghi chiamare allo 095 85 74 77 oppure 340 033 57 408. EnerGreen Power. Contrada 3 Fontane Paternò. Visita il nostro sito internet www.energreenpower.it E rientriamo in studio con la seconda parte del nostro telegiornale. In sei sono entrati in un appartamento al primo piano di Piazza Marina a Palermo e dopo aver narcotizzato una donna e il loro bambino di due anni presumibilmente con delle benzodiazepine hanno portato via oggetti preziosi cellulari e computer per un valore di circa 20.000 euro. È accaduto la notte del 28 luglio e oggi la Polizia di Stato è risalita agli autori e a fermarli. Il più piccolo ha 14 anni, il più grande 24. I componenti della banda si sono arrampicati fino al primo piano dove le finestre erano state lasciate aperte a causa proprio del caldo intenso di questi giorni. Una delle vittime ha raccontato che al risveglio si sentiva come ubriaco gli agenti della squadra mobile nei pressi del palazzo hanno trovato due flaconi contenenti bienzo diazepine, farmaco forse utilizzato appunto per narcotizzare le vittime. E adesso il gran caldo di questi giorni, temperature davvero alte oggi da nord a sud con la colonina di Mercurio ben sopra i 40 gradi. A Paternò raggiunti i 42 gradi. A Catania la protezione civile ha fatto scattare il bollino rosso per il rischio. Alla salute. Come anticipato nei giorni scorsi, l'ondata di caldo africano è giunta puntualmente in Italia investendo la penisola con temperature torride. Superati i 40 gradi da nord a sud con le regioni centrali maggiormente esposte al soffio bollente proveniente dall'area sahariana. Secondo i meteorologi, la Sicilia sarebbe stata interessata soltanto in parte dall'ondata di calore denominata Lucifero, ma le temperature alte non sono mancate soprattutto nelle aree centrali dell'isola. Caldo da bollino rosso con allarme lanciato dal Dipartimento regionale di protezione civile anche a Catania. A Paternò oggi alle 14 sono stati raggiunti i 42 gradi. Non un record stagionale visto che già altre due volte quest'estate il termometro in città ha raggiunto la stessa temperatura. Si tratta di un caldo record paragonabile in questo primo inizio di secolo soltanto a quello registrato nell'estate 2003. Come quell'anno, anche questa volta il caldo torrido non cenna a placarsi, ma prosegue a ondate regolari spingendo le perturbazioni, ben oltre l'arco alpino. Il risultato è un'estate arida e calda come poche volte è avvenuto. E per i prossimi giorni la situazione, secondo le previsioni meteo, non dovrebbe cambiare di molto. Il gran caldo infatti persisterà anche in Sicilia per tutto il resto della settimana e quindi fino a domenica. Anche l'inizio della prossima settimana sarà nel segno delle alte temperature. Una tregua dovrebbe arrivare sotto Ferragosto. Nessuna minaccia di maltempo all'orizzonte, ma un moderato calo delle temperature che dovrebbe portare il clima su livelli più accettabili. E adesso l'ampia pagina che dedichiamo alle festività patronali di San Nicolò Politea d'Adrano. Grande festa oggi nella città adranita per il santo patrono. Le reliquie del santo sono state ricongiunte nella comune adranita nel novecentesimo anniversario della morte. di San Nicolò Politea Un evento atteso da quasi nove secoli. Un ritorno a casa toccante, quello di oggi pomeriggio del patrono di Adrano, San Nicolò Politea, le cui sfoglie mortali conservate dal calo rifusi sono tornate per la prima volta nel suo paese di origine. Il corpo del santo finalmente ricongiunto è stato accorto da una folla festante, il tutto in occasione dei novecento anni della nascita del santo eremita, una occasione storica per riunire appunto anche se per un solo giorno le reliquie del santo custodite ad Adrano, il sacro teschio e quelle del resto del corpo custodite ad al calo rifusi. I due paesi uniti dalla devozione al santo patrono hanno deciso infatti di far incontrare le reliquie conservate nei rispettivi comuni per ricongiungere idealmente il corpo del santo proprio in occasione del nono centenario della nascita. Le reliquie provenienti da Alcala sono stata accolta all'ingresso della parte alta di Adrano esattamente nel piazzalantistante la chiesa del cuore immacolato di Maria. L'incontro delle due reliquie esattamente alle 18.10, un momento emozionante che resterà per sempre nel cuore di chi lo ha vissuto e nella storia della città di Adrano. Il tutto alla presenza del Vescovo di Patti, Monsignor Guglielmo Giombanco, di quello di Catania e Monsignor Salvatore Cristina, dei sindaci dei due comuni, Pippo Ferrante, erettore e dottore dei numerosi devoti ad Anite e Alcaresi, delle confraternite cittadine e dei comitati dei due comuni. Dopo l'accoglienza al cuore immacolato, la lunga processione delle due reliquie verso la chiesa madre dove si è svolta la celebrazione eucaristica pontificale. Andiamo al Vescovo di Patti, un momento storico ovviamente non solo per la città di Adrano ma anche per Alcara-Lifusi. È un momento significativo perché unisce in un vingolo di fede e di comunione le due città, Adrano e Alcara-Lifusi. Adrano ha dato i Natali della vita terrena a San Nicolò, Alcara-Lifusi i Natali alla vita del cielo perché è morto ad Alcara. E questo momento serve a tutti per riflettere sul significato della vita che va vissuta in pienezza, come l'ha vissuta San Nicolò Puliti, facendo scelte coraggiose con semplicità e umiltà. Penso che il messaggio di questo grande santo è un invito alla semplicità per raggiungere anche mete alte nel cammino della vita. Signor Cristi, un momento storico anche per lei che è concittadino di Adrano? Certamente è motivo anche di fierezza in questo momento essere anche se onorario cittadino di questa città che assieme ai fratelli e alle sorelle di Alcara-Lifusi guidati dal carissimo loro vescovo Monsignor Giambanco e dai sacerdoti, onoriamo insieme il santo patrono. Lo onoriamo due comunità. Qui è nato, ad Alcara-Lifusi ha finito il cammino della sua esistenza, una vita di santità. Noi lo onoriamo proprio per questo e il frutto di queste solenni celebrazioni vogliamo che sia proprio questo, tutti crescere nell'amore verso il Signore, nell'amore verso il prossimo perché la santità è proprio questo. San Nicolò ci ottenga questo dono dal Signore e noi vogliamo impegnarci in questo senso. Padre Stimoli, un momento atteso da 900 anni, fra poco ci sarà il ricongiungimento del corpo di San Nicolò Politi. Come sta vivendo lei questa attesa che ha in mano il sacro teschio del nostro santo concittadino? Ma non credo che si possa dire più di tanta ma tanta ma tanta emozione perché il ricongiungimento del corpo dopo tanti anni non è cosa da poco per cui non credo sia soltanto mia l'emozione ma di tutti gli alcaresi e anche noi adreniti che sia questo evento abbastanza particolare perché ciascuno possa crescere verso la santità che è la volontà di Dio per ciascuno di noi. Tutto si racchiude in due parole, l'abbiamo letto, ben tornato Nicolò, due parole semplicissime che racchiudono un'emozione lunga 900 anni. Ben tornato Nicolò, significa che noi vogliamo essere sempre più vicini a lui per essere con lui accanto a Dio in anticipo in questa vita, domani nell'altra. E questa mattina il Sindaco Pippo Ferrante ha deposto un mazzo di fiori nella villa comunale di Adrano in ricordo di Rosario Ranno, il giovane ucciso proprio il 3 agosto di 5 anni fa. 5 anni senza Rosario Ranno. Anche quest'anno, la mattina del 3 agosto, mentre Adrano si prepara a festeggiare il Santo Patrono Il Primo Pensiero, è andato a Rosario il giovane adranita ucciso con una coltellata la villa comunale di Adrano la sera del 3 agosto del 2012. E anche quest'anno il Sindaco di Adrano Pippo Ferrante ha deposto un omaggio floreale sul luogo della tragedia, esattamente accanto alla stele che ricorda Rosario nonché tutte le vittime della violenza. Prima sulla panchina, in prossimità del luogo della tragedia, erano stati deposti altri fiori da familiari e amici di Rosario. Sindaco, 5 anni fa la tragedia di Rosario Ranno, un momento che sicuramente ci fa ancora riflettere e che gli adraniti non debbono dimenticare. Non debbono assolutamente dimenticare perché purtroppo questa è una società che ha delle difficoltà sul piano educativo, quindi dobbiamo trasmettere ai nostri ragazzi un messaggio ben preciso, bisogna sempre ripudiare ogni tipo di provocazione. Le provocazioni poi chiaramente sono il frutto anche di una violenza, quindi attraverso questo gesto stamattina ripudiamo la violenza, o perché sia verbale o perché sia fisica. Ecco, proprio in questi giorni sappiamo quello che è accaduto, questa risa fra i giovani di Adrano e i giovani immigrati e i fiori portati oggi a Rosario, debbono servire anche da monito affinché tanta violenza non ci sia più e ci sia più tolleranza nei confronti di tutti. Non ci sono dubbi, io non sono uno di quelli che vuole creare una carriera politica sull'odio razziale, capisco che in questo momento parlare di extracomunitari è una maniera per cercare consensi, per cercare simpatie, ma io sono disponibile a perdere anche le simpatie di qualcuno, ma sono contro ogni tipo di odio razziale, o perché sia bianco o perché sia nero. Nella vicenda di questi giorni abbiamo visto di chi sono le responsabilità e sono chiare, quindi mi auguro che queste cose non succedano più, dobbiamo anche imparare una cosa, che i nostri figli non sempre hanno ragione, non dobbiamo sempre cercare degli alepe per giustificare i nostri figli, quando sbagliano vanno ripresi. E con queste immagini si conclude il telegiornale per questa sera, come sempre vi ricordo la prima edizione in onda alle 20 e poi i nostri aggiornamenti sulla pagina Facebook e sul sito check3sud.com. A voi una buona serata.